Ci troviamo in Umbria, nel comune di Terni e stiamo nel comprensorio della Valnerina, nella punta estrema dei Colli Assisi Spoleto. È un territorio prettamente olivicolo, anche se qui l'olivicultura incontra delle condizioni climatiche un pochino particolari e limitanti la coltivazione. I freddi estremi a volte durante l'inverno possono creare qualche danno o rallentarne quella che poi è l'attività vegetativa durante l'anno. Siamo in un'azienda prettamente olivicola, come potete vedere, dove è presente anche un frantoio. Le varietà che maggiormente sono coltivate sono il frantoio, il leccino, il moraiolo, ci sono alcuni impollinatori sia locali che di origine nazionale, come il pendolino, e ci troviamo in una situazione di olivicultura gestita razionalmente tutto l'anno. Questo vuol dire che la coltura è ritenuta un'attività fondamentale per l'azienda agricola ed è ritenuta fondamentalmente da reddito. Quindi tutte le operazioni culturali vengono svolte in maniera regolare durante l'anno a partire dalla prima, che è quella che ci accingiamo adesso ad eseguire, che è quella della potatura. La potatura è una pratica culturale che riguarda tutte le piante arboree e che viene messa in atto a partire dalla fine dell'inverno. Quando ci avviciniamo al risveglio, ma la pianta ancora si trova in un momento di dormienza, si procede facendo questa operazione. L'operazione della potatura nasce come un'operazione di taglio dell'uomo che un po' doveva fare legna e di contenimento della pianta. Quindi in passato era un concetto molto empirico, si procedeva con degli attrezzi di taglio tipo seghetti soprattutto o forbici e si eliminavano parti di piante. Nell'ultimo secolo dello scorso millennio diciamo che è stata messa a punto in maniera più scientifica questa operazione culturale e oggi i tagli che vengono fatti seguono delle regole ben precise. La cosa più importante da guardare in una pianta già impostata è la forma di allevamento e seguire le regole che questa forma di allevamento ci suggerisce. Le forme di allevamento maggiormente utilizzate un po' in tutta Italia ma soprattutto in Umbria sono delle forme di allevamento piuttosto volumetriche e quella per eccellenza oggi che viene eseguita è la forma policonica a tre o quattro branche dove si prevede un tronco centrale ad un'altezza di circa un metro un metro e venti da cui poi si dipartono tre o quattro branche principali. Altre forme di allevamento che si possono incontrare e che si possono utilizzare con buoni successi sono delle forme di allevamento invece ad asse unico come il monocaole o monocono libero e poi oggi per la maggiore sta andando l'utilizzo di forme piatte che possono essere impiegate su varietà da crescimento contenuto per impianti ad alta densità e queste forme richiamano molto alla palmetta libera. Sulle branche principali o secondarie possono svilupparsi dei rami assurgenti che in questo caso si chiamano succhioni all'inizio sono sterili possono diventare fertili a partire dal secondo terzo anno. I rami penduli che si trovano nella parte esterna della chioma quindi poco vigorosi sono rami fertili quelli in grado di fare fiori e quindi produrre poi olive ecco qui ne vediamo una proprio che si trova nella parte esterna di un ramo. I rami produttivi quest'anno saranno proprio questi penduli che si trovano nella parte esterna della chioma. Una cosa importante di cui bisogna tener conto quando si pota una pianta di olivo è mantenere un buon rapporto tra la foglia e la parte legnosa per cui noi dobbiamo avere poco legno all'interno della pianta e molta foglia rami a frutto nella parte esterna in maniera tale che si conserva questo equilibrio e la pianta non subisca stimoli eccessivi nel riemettere tanto legno per riequilibrarsi. Una pianta così potata ha richiesto dei semplici tagli limitati aveva comunque uno scheletro già ben formato ed è rimasta molto ricca nonostante i tagli di potatura in grado di dare delle buone produzioni anche quest'anno subito dopo la potatura. Quindi una possiamo dire che è una potatura corretta quella che lascia una chioma ben vestita sulla pianta eliminando solo ciò che non serve. Grazie per la visione!